Bentornati a tutti, mi sono trovato diverse volte a dover simulare dei colori per dei modelli, per scegliere ad esempio dei colori di alcune finiture di mobili e come riferimento capitavo di utilizzare i colori RAL, così più che altro come passatempo mi è venuto in mente di simulare una vera e propria mazzetta di colori, andando a creare per ogni singola pagina di questa mazzetta i colori effettivi RAL con ognuno il proprio numero e così facendo praticamente sono andato a creare tanti materiali molto semplici, un diffuse, un glossy e un fresnel che regola la miscelazione e a monte del diffuse il relativo colore, per ogni colore RAL cercando su internet si trovano i rispettivi valori RGB e quindi ho pensato semplicemente di creare un materiale per ogni tipo di colore, solo che questo è un lavoro piuttosto lungo e soprattutto nel voler utilizzare diversi colori per fare varie prove il procedimento può risultare un po' macchinoso, andare a cercare il materiale, importarlo, applicarlo eccetera. Così mi è venuto in mente che Blender ha la possibilità di utilizzare un linguaggio di programmazione chiamato come abbreviazione OSL che sta per Open Shading Language che permette di creare dei propri nodi utilizzando uno script. Così mi è venuto in mente di realizzare un unico nodo in cui fossero presenti tutti i RAL in un colpo solo. Ho quindi creato per questo esempio un materiale tipo, ma può essere qualsiasi cosa, al quale ho applicato in ingresso un nodo chiamato RAL RGB che semplicemente non fa altro che automatizzare la scelta di valore RGB a seconda del numero RAL che viene immesso. Per farlo funzionare bisogna assicurarsi di aver abilitato l'Open Shading Language qui nel pannello Render. Ecco vedete in questo caso il RAL attuale è il 5009, proviamo ad esempio 3000 e cambia colore. Quindi provando i vari numeri il nodo RAL RGB si comporta come un nodo normalissimo RGB, però anziché dar fuori un colore a scelta come può essere il nodo .RGB da un colore riferito al codice. In questo caso il RAL 3600 non esiste quindi viene fuori un colore nero, completamente nero. Quindi l'effetto è identico e posso attaccare al mio materiale un semplice nodo di colore, informazione sempre colore, solo che mentre con l'RGB posso inserire i valori per singolo canale oppure il valore esadecimale, con il nodo RAL semplicemente inserisco il codice che voglio simulare. Vi faccio vedere com'è fatto questo script, in realtà è molto semplice, lo si può caricare all'interno del text editor ed funziona in maniera molto simile a quanto abbiamo visto nella lezione 28 del corso base. In questo caso lo script è molto semplice, questa prima parte sono soltanto delle note, abbiamo in ingresso un valore intero chiamato RAL che per default è 1000 e in uscita un colore che per default è nero, 0. Dopodiché una serie di condizionali, cioè se il valore RAL è uguale a 1000, il colore in uscita sarà 0.801, 0.727, 0.531, se il colore è 1001 di conseguenza i valori saranno questi altri, sono tutti valori in realtà approssimati, è una simulazione del colore RAL, se volete una corrispondenza precisa dovete avere la massetta, però può già rendere l'idea in maniera approssimativa del colore che può venire fuori all'interno di un rendering, poi naturalmente il colore viene influenzato dalla luce, dal materiale, da tanti fattori, però ho pensato che potesse essere utile avere una tabella diciamo di riferimento racchiusa in un unico nodo. Potete quindi realizzare in autonomia questo nodo, oppure se vi fa piacere riceverlo vi invito a partecipare al piccolo contest che ho lanciato nella lezione 32 del corso base, nel quale vi invito a mandarmi i lavori che avete svolto come esercizi nelle lezioni che abbiamo fatto insieme e tramite i quali poi dopo io realizzerò un breve video in cui vi dirò quello che penso di quello che mi avete inviato, non c'è un limite di tempo, quando avrò ricevuto abbastanza video li pubblicherò, avrete così magari occasione di farmi qualche domanda e spero di saper rispondere. A tutti quelli che parteciperanno vorrei regalare questo piccolo nodo che magari può essere utile. Grazie, a presto!